Buonasera a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Incredibile quello che è successo nel Master 1000 di Cincinnati. Premessa, non sono a casa, ho visto quanto accaduto, mi è arrivata la notifica, non ho visto la partita quindi sarò molto onesto con voi, non posso commentare con un'opinione, un parere tecnico quanto è successo in campo, però il risultato è chiarissimo. Gael Monfils elimina Carlos Alcaraz nel 1000 di Cincinnati nella gara d'esordio dello spagnolo. Ora, per chi mi conosce, per chi segue questo canale sa che non sono solito fare polemiche, non sono solito fare paragoni, però questa è una gran risposta, è una grande lezione a tutti quelli che dicevano che Sinner vale un'unghia di Alcaraz, che Alcaraz è di un altro pianeta, che Alcaraz è infallibile, che Alcaraz di qua, che Alcaraz di là. Perdere al primo turno, secondo turno, dove ha avuto l'esordio Alcaraz, contro un giocatore come Monfils, che con tutto rispetto è un giocatore sicuramente di classe, dotato di un'ottima tecnica, estroso, ma comunque un giocatore a fine corsa, a fine carriera, è sicuramente un risultato che per uno come Alcaraz, che ha fatto incetta di slam, che comunque, a detta di molti, è il numero uno indiscusso, anche se il ranking dice altro, insomma, io credo che sollevi molti punti interrogativi, e avevo già fatto un video qui sul canale in cui facevo vedere che sì, Alcaraz è vero, Argento alle Olimpiadi, due slam in più di Sinner nella stagione in corso, però anche alcune sconfitte contro giocatori nettamente inferiori. Quindi, insomma, il risultato di oggi è veramente clamoroso, Alcaraz eliminato, boh, non vedo l'ora dopo di andarmi a vedere lì a Lazio, di capire cosa è successo, fatemi sapere anche voi nei commenti, insomma, se avete visto la partita, certo è che io dico, prima di dare giudizi, prima di dire Alcaraz cento volte più Sinner e tutto, andiamoci cauti, perché il bello di questo sport, il bello del tennis è che le cose, le opinioni cambiano di partita in partita, di torneo in torneo, quindi, anche per Alcaraz non è la fine del mondo, verrà perso con Monfils, perché poi magari si andrà a vincergli o esope, rimane comunque un fuoriclasse, rimane comunque un giocatore fenomenale, certo è che non si può dire che perdere contro Monfils, per un giocatore che è numero 3, numero 2, ma anche forse il numero 1 del mondo, un giocatore del livello di Alcaraz, non può essere considerata una sconfitta che ci sta, è sicuramente una brutta caduta contro un giocatore di 3 spanne inferiore, quindi, ripeto, non voglio essere polemico, però concedetemi che chi spara giudizi un po' troppo frettati, in questo caso dovrebbe avere la coerenza di dire lo stesso, nei confronti di un giocatore come Sinner, che, ricordo, da inizio anno ad oggi, come ho detto nel video precedente, oltre a essere il numero 1 del mondo, oltre ad aver vinto gli Australian Open, si è sempre fermato al massimo, scusate, come minimo, ai quarti di finale, quindi, credo che questo sia molto indicativo del fatto che non ci sia questo divario tra i due. Passo e chiudo, direi che questo Sin Sinati risalva grandi sorprese, io vi do appuntamento per domani, perché farò un super video di repilogo di quanto accaduto, e soprattutto domani la diretta Sinner Ruble, perché c'è una semifinale da conquistare. Buona serata a tutti.